Filomena! Filomena! Auguri e buon Natale, Filomena! Che visite hai? Buono, buono, sento c'è una pastietta, pastietta, madre mia, chi puzza l'oglio fettoso, chi? Pastietta, che stai facendo? I cacuocciole e caiduna? Ah, ho capito, senti, ti ho chiamato per dirti, ho fatto il pandoro io a casa, che cosa ne vuoi un poco? Io lo sto arriffando, lo vuoi un numero? Un numero lo vuoi? Sì, artigianale, bello, fatto da me, ci ho messo 75 uova, sì, quanto è un biglietto? 30 euro, vuoi il fio o no? Caro, caro, è caro, c'è la stessa cosa che ti mangi, un panettone che ha sapori di caiduna di cui io, o ti mangi chi tu mio che è bello? Ah, un cacuocciolo, non lo vuoi andare in numero? Un nu, un nuvuolo, va bene, va bene, ti esaccomando, quando poi sali con i bigliettini da me, quando arrivi e fai la cosa di poi sta pranzi, un bigliettino tu sbatte ancora dietro e poi, perché io non me ne prenderò più, lo capisci? Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, senza offesa, senza offesa, chi cosa deve fare, sei seri? Ora, ti disse che deve fare, lo capisci? Ok, ma chi ha i parenti dentro? Ricendo, signor, un numero magari su bigliettino, io faccio l'estrazione fra mezz'ora, capito? No, se l'è preso il signor Totò di giù, un numero, ecco, nessuno c'è il 360, ma basta, ho capito? Domandaci, domandaci, di gette sotticchie, un bolognese di piccola, mangiano monnezza, mangiano monnezza, sanno mangiare solo monnezza, e, buonasera, buonasera, che sono usacchista, questo, questo musso trinciotto, ma non mi sa chi è una concepondola, dove va? A fare visita, quanto siete? Due? Ah, ho capito, due ceppondola, dimmi, un nuovo anno, va bene, hai da fare ancora bene, tutto quanto siete, ma pandoro, ma vedi che ora io c'è, e non è fare solo pittori, vabbè, 90 numeri, 90 numeri, che mi scelgo magari, il signor Totò, il signor Totò, mi riesce, e se tutto pandoro che ho fischio, che è mattenata, con mare di uova, ci ho messo pure 4 kg e mezzo di burro, cioè, ma chi se sono cose artiche, i giornali che si mangiano e non si dimenticano più, rimane nel palato, non cusce pane e torna, vuoi dire, mi fecero un tuas con Natale scorso, mi fecero un tuas con tutta la notte che mi chiamavano e mi scendevano, chi è? Il biglietto 30 euro, 30? Quanto? 5 euro, 5, cioè, il mio sacrificio vale 5 euro, vale? E perché io poi ho un giacato che ho niente. Ora facciamo 10 euro e mi facciamo contente, sia tu che io, lo capisci? 10 euro, ok, ma non mi riusciamo a niente di tuo figlio, che c'è il mio numero. 10 euro, alle 7 e mezzo, al rifo, capito? Guarda che ci sono pure io in mezzo a questi numeri, capito? E siamo 3, lo capisci? Ok, ciao, ciao, mandami, lo mandami. Samara, vai, il pandoro fatto a casa, che io pare già il suo tempo di fare il pandoro, lo capisci? Accattavo il tuo supermercato 2 euro, lo capisci? Ci ho messo, l'ho fatto ammorbidire, ci ho messo in antichia della lattina sopra, cosa vuole? Ora, ora mi sono sulla cama tenata per fare il pandoro a guai, chi dice? Buon Natale, buon Natale, buon Natale.